La Germania domenica ha pareggiato 1-1 con la Svizzera. Il risultato ha consentito a entrambe le squadre di qualificarsi alla fase successiva del torneo, classificandosi prima e seconda del gruppo A. Sia la Germania che la Svizzera giocheranno sabato le partite di apertura degli ottavi di finale. Gli avversari non sono ancora stati decisi. Nell'altra partita del gruppo A, l'Ungheria ha battuto la Scozia per 1-0, segnando un gol al decimo minuto del tempo supplementare, ma con tre punti a testa nel tabellone finale del gruppo, quella di domenica è stata l'ultima partita degli europei per entrambe le squadre. Due giornate di squalifica sono state date al calciatore Mirlind Daku, attaccante kosovaro albanese che gioca per la nazionale albanese. Entrato nei minuti finali del match contro i croati, al termine della partita aveva intonato con tanto di megafono rivolgendosi ai tifosi cori nazionalisti, anti-Servia e anti-Macedonia del Nord. In una nota, l'UEFA sottolinea che il provvedimento nei confronti di Daku è stato preso per violazione delle regole basiche di comportamento e l'utilizzo di un evento sportivo per una manifestazione di altro tipo e per aver gettato discredito sul mondo del calcio.